Ma non c'è più tempo, torna e vince la Fiorentina dopo quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia Lo fa a battere una diretta concorrente per la zona europea 2-0 alla Roma, accanciata in classifica C'è un bel blocco a quota 59 a meno 3 da La Lazio Eccoci qua signori miei, buonasera Siamo in esterna stasera, siamo in esterna però non manca il video sulla lotta all'Europa All'Europa ci si gioca tanto ancora, non solo per lo scudetto, non solo per la lotta salvezza Anche per la corsa all'Europa Conference e Europa League Allora, da dove partiamo? Innanzitutto rivedere Spinazzoli in campo Io che sono nostalgico, mi riporta all'europeo Mi riporta sicuramente a lieti pensieri Ma soprattutto sono contento di vedere quel ragazzo in campo Quel ragazzo che purtroppo ha anche patito calcisticamente parlando tanto E quindi è sempre bello Gli auguriamo di tornare ai suoi livelli Detto questo ci sono più note negative che positive stasera Perché quando io mi devo fermare sulla direzione arbitraria Lo sapete già che le cose non mi piacciono Però credo che stasera sia anche doveroso farlo Prima però partirei con la prestazione della Fiorentina Perché poi al netto di alcuni episodi La Fiorentina stasera Per intensità, per qualità, per leggerezza Spinta anche dal pubblico di casa Stasera la Fiorentina mi è sembrata essere nettamente più in gamba Nettamente più in palla E quindi la prova è stata superiore all'avversario E vince meritatamente Senza discussioni di sorta Assolutamente Quello che dispiace è appunto questo Che in una partita del genere Comunque uno deve andare a parlare dell'arbitraggio Voglio parlare di Guida Voglio parlare di lui Perché sapete Anche in Toro Inter c'erano state discussioni Giustamente Ricorderete sicuramente il contatto Ranocchia Belotti E ricordate quell'episodio Poi lui e Massa furono sospesi E adesso stasera ne ha combinato un altro Segno che Lo so C'è sempre retropensiero Soprattutto in alcuni tifosi Ma io credo molto semplicemente Non faccio peccato O comunque esprimo quello che è il mio pensiero Io credo che come ci siano Giocatori di livello A Di livello B Di livello C O Banalmente Giocatori forti O giocatori scarsi Io credo che ci siano Arbitri forti E arbitri scarsi E la partita di stasera Mi porta a dire Che secondo me Perlomeno Non è di certo Un arbitro forte Guida Di certo no Un arbitro che Parliamo del primo rigore Fischiato No Vede l'azione Lascia continuare Lascia continuare Perché l'ha visto Poi cosa succede Il VAR richiama Fa un check E lui va a rivedere Va a rivedere Un qualcosa che lui ha visto Un tocco Che poi tra l'altro Io neanche vedo Sto tocco Io vedo semplicemente Che Chi era Kasdor Pallarga leggermente Il piede E quello Automaticamente Si butta Nico Gonzalez Si butta a terra E lì ci sono Tre errori Gravissimi O me No Ce ne sono due Errori grave Perché il primo Non era un errore Cioè Guida vede E lascia continuare L'errore grave È andare a richiamare Su quello Che sempre Ci è stato detto Da inizio stagione Ci sono episodi Che so da VAR Episodi che non so da VAR E stasera Ci ritroviamo A parlare Di un episodio Che non è Da VAR Perché quello È un contatto Che Cioè È talmente Esile Che può giudicarlo Solo in campo O sbaglio Così c'è sempre Stato detto Invece il VAR Richiama Primo errore Guida Che già l'aveva visto E non aveva Fatto continuare Va a rivedere E andando a rivedere Il contatto Che esile Che se Di contatto Vogliamo parlare Poi tra l'altro Fischia il rigore Ci sono due errori Clamorosi Clamorosi Sia del VAR Banti Sia dell'arbitro Ma attenzione Non è che sto dicendo Che si voleva Favorire la Fiorentina Anzi Tutt'altro Dopo succede Un altro errore Gravissimo Succede che Iconè Praticamente Lanciato a rete Cerca di Interromperlo Cerca di fare Uno spalla a spalla Ibagna Se lo manca Completamente Si butta a terra E fischia Di fallo Di Iconè Quando Iconè Era lanciato In porta E non aveva Fatto nulla C'è un altro errore Clamoroso Cioè Questo significa Essere inadeguati Non è questione Di complottismo Non è questione Di favorino a squadra Di favorilato Questione di essere Inadeguati Un arbitraggio Del genere Che poi può capitare Per carità di Tio Però Non è neanche più La prima volta Significa non essere Adeguati A determinate Palcoscenici Secondo me Tutto qua Ripeto Entriamo nel merito Per parlare Per parlare Anche un po' Delle disegnazioni Arbitrali Per parlare un po' Del livello Di alcuni arbitri E altro Ma Non è che voglio fare Comprottismo Anzi Tutt'altro Tutt'altro Io spero che il mio pensiero Sia chiaro Perché non vorrei creare Invece L'effetto contrario Il mio pensiero È per dirvi Purtroppo Come esistono I giocatori forti Esistono quelli scarsi E come esistono Gli arbitri di un livello Ne esistono anche quelli Di tutt'altro livello Questo è il mio pensiero Detto ciò Come ho detto prima La Fiorentina La partita L'avrebbe vinta uguale La Fiorentina Per questa partita Si vedeva Che ne aveva Molto di più Dell'avversario È entrata Con una testa diversa Con una gamba Diversa Soprattutto nel primo tempo Vincevano tutti Tutti i duelli Non c'è stata storia Sotto Sotto questo punto di vista Poi attenzione Se Pellegrini Da punizione Segno Nel secondo tempo Comunque Sempre da palla inattiva Abram Ci arriva Nel finale di primo tempo Magari la partita Può cambiare Tutto quello che vuoi E magari Sono la sblocco De rigore Può subentrare altro Però ragazzi Mi è sembrata Dal punto di vista Tecnico Tattico Mi è sembrata Una gara Impari Quest'oggi Sulle gambe La Roma Ci sta anche Perché la Roma La Roma Giocando Nella settimana Giocando partite Che poi si fanno sentire E giocando un calcio Di intensità Perché la squadra di Mourinho Fa dell'intensità La sua arma migliore È normale Che poi la paghi È normale È normale Che paghi Anche Dazio Ripeto Dispiace Dispiace Che in una gara Così ben fatta Così ben giocata Della Fiorentina Si debba parlare Poi anche Dell'arbitraggio Ma è giusto Parlarne Ripeto Secondo me È giusto Parlarne Perché Perché Secondo me A questi livelli Questi errori Non andrebbero fatti Purtroppo Capita Ragazzi Capita E va bene Così Detto ciò La lotta All'Europa Adesso è veramente Interessante Perché c'è la Lazio Che è al quinto posto È a più tre Dalle altre A 62 punte Ma poi in effetti Ci sono Atalanta Roma e Fiorentina La Fiorentina Che appunto Con questi tre punti Eguaglia la Roma A 59 E c'è anche L'Atalanta A 59 Quindi È una corsa Molto Molto Interessante Vediamo Cosa Ne esce fuori Sono molto 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 curioso Di vedere Come andrà A finire Va bene Detto ciò Buona serata Spero di non avervi Annoiato Perché lo sapete Solitamente parliamo di calcio Stasera un po' meno Detto ciò Un grande Un grande Abbraccio Spero di non avervi